Andrà in onda sul canale 9 di Discover Italia venerdì 30 marzo alle ore 23 una nuova puntata della confessione. Intervistato da Peter Gomez, il protagonista sarà Matteo Cambi, noto per la sua travagliata vita, che lo ha visto passare dalle notti al billionaire alla galera, in 80 giorni. Daniela Martani è la frase shock contro i carnivori, il carcere a chi porta i bambini a mangiare hamburger. Nel corso dell'intervista Cambi racconta anche della dipendenza dalla polvere bianca, il lusso e l'abisso del carcere. In 80 giorni è passato dal billionaire alla galera, cosa ha pensato in quel momento, domanda Gomez. Che il castello fosse crollato coi miei sogni di ragazzo, tutto era finito, ricorda Cambi. Può essere che l'origine dei suoi guai fosse la cocaina, chiede il giornalista. Ero fuori controllo, ci sono piombato dentro senza nemmeno accorgermene, ammette l'ex imprenditore. I vizi, ai tempi della vita sfrenata, Cambi, ce li aveva tutti. Ci trova a frequentare gente di ogni tipo, come prostitute e trans, a lei è capitato? Domanda Peter Gomez. Sì, sono sincero, perché quando si è molto soli afferma Cambi si cerca una compagnia comprata, a tutti i costi, guarda la fotogalle. Grazie a tutti.